Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo 58esimo episodio della nostra Master League con la Roma, signori. Ultima partita del campionato che andiamo a giocare contro il Manchester. Scudetto oramai in cassaforte perché abbiamo mantenuto i 9 punti di vantaggio sulla seconda che in questo momento è il Bayern di Monaco e invece la scesa al terzo posto sulla quale abbiamo 10 punti di vantaggio, signori. Detto questo prima particolare video vi ringrazio per i like, per i commenti presenti e per il supporto. Vi ricordo soprattutto di iscrivervi al canale, signori. Allora, piccola annotazione. Tra ieri e oggi vi ho chiesto, nel senso no, tra ieri e l'altro ieri vi ho chiesto un consiglio se continuare un'altra stagione con la Roma oppure andare e iniziare da capo partendo con magari un'altra squadra, molto probabilmente l'Inter e alzare il livello di difficoltà. Mi avete convinto, signori, in qualche commento mi avete scritto, come avevo detto ieri, di continuare un'altra stagione vincendo la Champions ma non si può fare perché la Champions non c'è in questa versione, di fare un'altra stagione alzando il livello di difficoltà in questa, alzando il livello di difficoltà con la Roma ma, signori, da una stagione all'altra non si può alzare il livello di difficoltà anche perché non c'è un file opzioni qua laterale. Quindi, signori, detto questo, da domani partiremo con una nuova avventura. La squadra sarà l'Inter, ripartiremo dalla serie B, signori, alzando il livello di difficoltà, quindi andremo sul difficile se non sbaglio e proveremo a ripetere le imprese della Roma. Fatta questa breve intro, signori, noi scendiamo in campo per l'ultima partita del campionato che ci vede contro il Manchester United. Una partita in cui sarà un'altra passerella come quella dello scorso video contro il Valenza, solo che nello scorso video contro il Valenza è finita proprio male, signori, perché vincevamo 3-0, abbiamo pareggiato 3-3, però va bene, passerella, signori, passerella che ci vogliono, passerella che ci vogliono. Noi però schieriamo sempre la squadra titolare, se nel primo tempo riuscissimo a portarci a casa un risultato importante, secondo tempo potremmo fare degli aggiustamenti vari, degli aggiustamenti vari alla squadra, però vediamo un attimino come si sistema la partita, vediamo un attimino come si sistema la partita. Dando famo tutti questi cambi, ok, al posto di Stormer gioca Journey. Detto questo abbiamo i nostri 11 titolari, signori, scendiamo in campo con Tony Manchester, ultima partita della stagione e della serie, ma che domani continuerà, manterremo il numero cronologico, diciamo, dei numeri degli episodi, quindi domani sarà l'episodio 59, anche se... Cada vai cazzo, non vai, Cafu, sei ancora briaco per la festa dello scudetto, che tra l'altro ancora non ci hanno dato, grandissimo David, a David Simino, ti faccio un complimenti a fare una cagata terribile. Turam, Turam che non rivedremo la prossima stagione, Saviola penso di sì, Saviola penso di sì, grandissimo Saviola che lancia Totti, Totti, mamma mia, bello, bello! Finta di tiro di Saviola che crea lo spazio per Totti, Totti la tira fuori, manneggia! Saviola, Saviola, per... Agaowa è sicuramente uno di quelli che non vedremo l'anno prossimo dell'Inter, decisamente no, Agaowa no, signori. Agaowa, io vi ringrazio per avermelo suggerito, ma non ha convinto nemmeno quello che porta le bibite a fine partita. proprio nemmeno lui ha convinto, Saviola, 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 mamma mia! David, David, se potremmo potremmo... No, a chi? A chi? Donde sta Babangita? È il Babangita? Donde sta? Donde sta il Babangita? Sta ancora festeggiando pure lui? No, David Simino, ti fa anticipare così, come se fossi nessuno... Che? No, no, grandissimo Ivanov! Questa è una risposta a tutte le critiche che prende questo uomo, che viene detto sempre non un pippone o non un buon giocatore sul quale deve giocare titolare in questa Roma. Invece Ivanov si è riscattato con quest'ottima parata. Grandissimo! Attenzione, Gjorni, Gjorni! Gjorni! Agaowa corre all'indietro. Invece di correre dritto e prendere velocità, corre all'indietro, Agaowa. Grandissimo, Gjorni. Gjorni sarà uno di quelli che mi dispiacerà... Gjorni! Che mi dispiacerà non vedere l'anno prossimo. Gjorni mi ci era affezionato, sì. Gjorni mi ci sono affezionato. L'abbiamo utilizzato molto come terzino, come ala, diciamo, in attacco. E poi... No, mannaggia! Non velocissimo, sa viola. E poi spostato da terzino in difesa, però si è sempre comportato bene. Ci ha levato le castagne dal fuoco molte volte, Gjorni. Attenzione, Agaowa, Agaowa, Agaowa. Riesce finalmente a rientrare. Agaowa! Buuuh, cerca l'angoletto. Vuole, vuole una seconda chance, Agaowa. Vuole una seconda chance con la maglia dell'Inter, ma non l'avrà, signore. No, non l'avrà. L'avrà Agaowa? No, non l'avrà. Già, già è stato messo in chiaro questo discorso. Agaowa! No, tornatene da dove stai venuto e restaci proprio senza se e senza ma. Saviola, grandissime recupero di valla. Grazie all'aiuto... Attenzione ancora, Saviola, 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 Saviola! Mannaggia, mannaggia! Sì, però se nessuno ci crede, come cazzo la deve fare? Solo Saviola a salvare il mondo. No, Davids! Mamma mia, tutta la squadra a te. A tutti che gli piace fare, deve esserci il campo scivoloso, signori. Deve esserci il campo scivoloso. Perché erano tutti a terra. Ancora, Saviola, 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 recuperate il pallone. Saviola, è partito Saviola. È partito Saviola. Harry, Harry. Babangita è in ritardo. Harry cerca Gafu. Che la restituisce a Harry. Che la restituisce a Saviola. Che si è creato lo spazio. Saviola, sverla! Mannaggia, ma non c'è nessuno pronto a intervenire sul tiro del piccolo Saviola. Del piccolo Saviola. Babangita è ancora a terra. Vabbè, niente. Babangita sta ancora festeggiando lo scudetto. No, 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 no. Gafu si è fatto... Si è fatto prendere in giro. No, 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 no. Davids, metti i palli a terra. Cerca Saviola e ripartiamo. Grandissimo Saviola che parte in contropiede. Saviola, 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 Saviola. Saviola. Grandissima la finta di tiro. Per Harry! No, l'ha buttata fuori. Bella era, bella era. Bella, bella, bella. Bella azione. Bella azione. Mi è piaciuta. Mi è piaciuta, mi è piaciuta. Mi è piaciuta. Come gioca bene la Roma! Come diceva il buon Marizio Mosca. Come gioca bene la Roma! Come gioca bene questa Roma! Mamma mia, come gioca... Guarda come piava il subiter goal. Ma... No, mamma mia. Chi è? Valeri? Giallo. Meno male, meno male. Però da posizione molto particolare. La tira a Roy Keane. La palla scende. E c'è il gol del vantaggio del Manchester. Ma porca! Ma porca! Totti! Mamma mia, Totti dal nulla! Totti dal nulla! Ci ha provato a trovare l'angolo. Non ci è riuscito. Non me l'aspettavo. Cioè, se Totti segnava così, impazzivo. Perché tutto l'anno non ha fatto una cippa di nulla. Se trovava questo gol... Attenzione! Ci prova! Saviola! Saviola! Calcio d'angolo! Calcio d'angolo! Per la Roma. Che non ci sta. Saviola. Saviola. Agaowa. Questa volta riesce a crearsi lo spazio. Agaowa. Per Babanji... No! Troppo sullo stretto. Valeri non fa credinare. Che cosa ci fa Ivanov lì? Che cazzarola ci faceva Ivanov lì? Che cazzarola ci fa meno male che siamo riusciti a recuperare... Santo Valeri! Santo Valeri! L'anno prossimo sarei pure titolare all'Inter, Valeri. Non ti preoccupare. Ti troveremo un nuovo compagno di reparto, Valeri. Non ti preoccupare. Non ti... Valeri è troppo veloce. Non riesce nemmeno lui a controllare la sua velocità. La sua esplosività. No! Mamma mia che bella palla che poteva essere. Signori, siamo sempre sotto di 1-0. Io non ve lo vorrei dire, però... Ogni tanto va ricordato... Mamma mia che fucilata di passaggio! Che fucilata di passaggio! Tirala, tirala! Bello! Bello, signori! Giornì! Giornì! Cazzarola! Che colpo da biliardo che ho trovato a Giornì, signori! Bello! Porca miseria! La stoppa! È il pallonettino sul palo! Mamma mia! Complimenti a Giornì! Che trovo il pareggio nei due minuti di recupero! Eh... Bravo a Giornì! Bravo a Giornì! Sarà difficile sostituirlo a Giornì! Giornì sarà... Bravo a Giornì dà, secondo me, con Roberto Carlos lo possiamo sostituire, anche se ci vogliono... Ci vorranno soldi e soldi, praticamente, per prendere un certo Roberto Carlos. Però, i giornì... Mi serve tutto il vostro supporto, signori! Mi servono tutto il vostro supporto e, nuovamente, tutti i vostri consigli per gli acquisti, signori! Perché dovremmo ricostruire una squadra! E niente, devono per forza segnarci! Devono per forza segnarci! Non ci vogliono andare! Quanto stanno durando questi minuti di recupero? Mannaggia a voi! Che cosa cazzarola è successo? Dai, 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 cazzarola! Quanto sta durando questo recupero? Tre ore! Tre ore di recupero gli hanno dato, signori! Ebbata! Affan bagno! Affan burun bang! Gung gung dung dung! Uno a uno! Alla fine del primo tempo! Dai! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Grandissimo, Davids! No, Davids è mio! Hai fatto tutto benissimo e poi ti perdi così! No! Ivanov! Salvataggio di Ivanov! Turam recupera il pallone! Trova Gaua! Che decide di... No, no, no! No, non decide! Non sapeva se andare a destra o se andare a sinistra! Non è andato da nessuna parte e ha fatto una grandissima cagata! Grande Ivanov! Va bene! Calma, 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 calma! Giocala lì! Ok, per Valery! Ok, per Valery! Niente! Non ci sia... Grandissimo, Davids! Secondo che recupero! Saviola, Saviola, Saviola! Palla a Saviola e la palla... Stavo dicendo palla a Saviola e la palla in banca! Noi l'abbiamo persa subito praticamente! Ma perché lì? Perché lì? Perché in mezzo a 8.000 persone? Gliela davi sulla fascia e la perfetta! No, gliel'ha dovuta dare per forza in una posizione sbagliatissima! Dai così, dai così, dai così, dai così! Dai così, Henry! Henry, guardalo, guardalo! È partito Babangida, signori! Babangida! Babangida! Vuole mettere anche lui il suo sigillo! Babangida! No! Totti, to... No, mamma mia! Proprio fuori! Non è che dici la sfiorata di poco! No, no, ci è andato vicino! No, proprio l'ha tirata fuori! Totti mio! La convergenza devi fatti controllare! Totti mio! Journey! Prendo il recupero! Palla in calcio d'angolo! Al tredicesimo del primo tempo! Roy Keane la batte lui! Parte il traversone! Ish! Da dove cazzo l'ora è passata sta palla, signori? C'eravate in due! Eravate in due! Mannaggia di una miseria infame! Eravate in due! Vi siete addormentati tutte e due! Ah, Ivanov mio però! Cioè, una parata è una cosa che fai bene! Tre sbagliate ne fai! Uno prova a salvarti dalle critiche e dagli insulti! Saviola! Saviola! Per Henry! Per Henry! Per Henry! Perché però... Ehi! 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 Henry la farei già subito, signori! 2 a 2! Ha tenuto fisicamente, Henry! Tanta roba! Tanta roba! Ha tenuto fisicamente! È rientrato! E la piazzata subito liscia liscia! 2 a 2! Subito! Il Manchester non ci scappa, signori! Il Manchester non ci scappa! Io ho paura per l'anno prossimo, signori! Io ho decisamente paura per l'anno prossimo! A giocare a livello di difficoltà più alto! Se già con sta squadra abbiamo queste difficoltà, pensa! Ripartendo praticamente dalla squadra base! No! 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 Ma porca! Ma porca! Grandissimo Cerny! Al posto giusto, nel momento giusto! Trova Saviola che trova Cafu che vede il Bamba! Il Bamba! Il Bamba! Decide di accendarsi! Poi decide di allargarsi di nuovo! Babangita! Babangita! Decide di mandare Henry! Cafu, 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 Cafu! Lanciato! Babangita! Che però no! Che però no! Senza troppe spiegazioni! Che però no! Grandissimo Davids! La palla arriva a Gaua! Vediamo se farà qualcosa di interessante a Gaua! 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 Meso! Meso! A Gaua! In quadro! Che cos'era sto straccio bagnato? Ma che è? È un passaggio! Vedi che lui gioca contro a Gaua! Non ti è ancora chiaro il gioco del calcio! Il portiere gioca contro! Non gioca con noi! Non gioca con noi! Non è perché ha la divisa diversa! No! Non gioca con noi! Maledetto! Maledetto! Davids! Valeri! 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 Saviola! No! Saviola mio! Ivanov è tua! Ok! Io ne vanno volatine lì! Cerca subito Cafu! 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 Per Saviola! Saviola per Babangita! Babangita per Harry! 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 Per Giorni! Giorni! Pallone sull'altro lato! Giorni! Lancia Gaua! Che niente! Non gli va segno! Non gli va! Ad Agaowa! Non va di giocare! Non... No! No! Si rifiuta! Si rifiuta Gaua! Lui ha fatto una cosa buona nello scorso video! Quell'assist per Babangita! Dopodiché! Dopodiché non gli va più niente! Non gli interessa! No! Non vuole giocare! No! Silvestre! Palla alta! Ok! Agaowa! Riscatta di Agaowa! Riscatta di Agaowa! Ma io con chi parlo? Cioè io parlo... Ma perché perdo fiato con questo? Io quasi quasi faccio entrare Semao, signore! Mi dava più soddisfazioni Semao! Sono sincero! Mi dava più soddisfazioni Semao! Quanto meno... Quanto meno ci regalava i bastoni per Selfie Semao! Lui non ci regala niente! Non ci regala niente! Lui pretende solo! Fuori sta palla! Oh! Agaowa mio! Se sbagli un'altra cosa ti butto fuori! Questa volta non ha sbagliato lui! Grandissimo Valery! Dai Agaowa! Dai Agaowa che hai le praterie! Hai le praterie! Corri Agaowa! Corri come le gazzelle nella savana! Grandissimo Agaowa! Non posso dire niente, signori! La gazzella Agaowa ha fatto il suo! La gazzella Agaowa ha fatto il suo! Ha tenuto fisicamente e ha trovato l'ang... No, l'angoletto no! Portiere troppo spiazzato! Tiro centrale! Roma 3! Manchester 2! Abbiamo ribaltato la partita, signori! Abbiamo ribaltato la partita! Totti, tutti, 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 tutti ancora per Agaowa! Agaowa! Ha scatenato Agaowa! Cosa cazzo non è successo? Si è dopata, signori! Ha tirato un poco di... Di non so che cosa! Ma di che stiamo a parlare? Cioè, se questo si è svegliato così di botto! Va bene! Non lo so, signori! Agaowa risponde così agli insulti del mister che l'aveva preso di mira! Porca miseria! Porca miseria! Agaowa dimostra che ci può stare nell'Inter del futuro! Nell'Inter del futuro Agaowa dimostra che ci può stare! Ma non ci starà comunque! Mi dispiace! Oramai è no! La mia risposta è no! Agaowa, per te la Master League finisce qui! Detrasino non è bellissimo! Grande l'intervento! Minuto di recupero! Grande Ivanov! Dai così! Valeri! Ultimo pallone di questa partita! Finisce, signori! Roma! Butter! Manchester United! 4 a 2! Nell'ultima partita del campionato! E si... 13 tira e 10! Fuori gioco falli! Babangita per Giornì! Saviola Penarri! Valeri per Agaowa! Totti per Agaowa! Va bene! E si dichiara vincitrice dello scudetto! Andiamo con la premiazione? Dai dammi questa premiazione che c'ho proprio voglia! 10 punti! Saliamo a 47! Va bene! Non ci sono altri incontri! Andiamo avanti! Chiudiamo la stagione, signori! Con questo successo! Dai! Dammelo! Dai! Dai, signori! Vincitori della Master League! Guardali lì! La Roma! Dai così! Spettacolo! Spettacolo, signori! Guardali tutti lì belli, contenti! Chi già è in canotta! Chi non è in canotta! Bello! Bello! Grandi momenti! Grandi momenti, signori! Grandi momenti! Ah, è finito! Così! Cioè, 8000 partite per 30 secondi di festeggiamenti! Salvataggio in corso! Lui salva così! Sta facendo in autonomia! In autonomia! Sta andando lui in autonomia! Non... Sta salvando il file pozioni! Ok! Autosalvataggio completato! Va bene! Va bene! 30 punti! 30 punti! 77 punti totale di punteggio giocatore, signori! Potremmo fare un mercato pauroso! Ma invece no! Non lo faremo! In Serie A scendono i Leverkusen e il Dortmund e salgono il Parma e l'Ajax! Attenzione! Il Dortmund torna in Serie B insieme all'Everkusen e sale il Parma e l'Ajax che l'anno scorso non faceva benissimo, era penultimo! Se non sbaglio quest'anno si guadagna la promozione in Serie A! Si guadagna la promozione in Serie A! Vedete? Il campionato poi riparte direttamente! Riparte direttamente! Un altro campionato che però non andremo ad affrontare, signori! Non andremo ad affrontare! Decisamente no! Cerca di giocare tante partite! Noi posso salvare? Sì! Salviamo, signori, assieme! Per chiudere questa bella avventura con la Roma! Con la Roma, signori! Da domani inizierà un nuovo cammino! Sarà difficile, complicato! Ma grazie al vostro supporto riusciremo a portarlo avanti! Detto questo, signori, vi ringrazio per aver guardato questo video! Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i sugerimenti e per il supporto! Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento! Bella raga! Ciao!